Parte telebrindisi.tv, un nuovo modo di informare tramite web i brindisini e non solo i brindisini, anche chi si trova lontano da questa città e tutto quello che accade nel nostro territorio. Cosa ne pensa Sindaco? Io capisco poco di queste cose molto nuove, però il tempo in cui l'informazione si faceva soprattutto con i giornali, si diceva che ogni giornale che nasce è proprio una vita nuova che esploda. Trattandosi di argomento di informazione, credo che qualsiasi iniziativa comunque si svolga sia da accogliere come una voce nuova, meglio se indipendente, meglio se approfondita, perché la molteplicità delle fonti talvolta determina anche una caduta di qualità. Ma siccome io conosco il tuo impegno, la tua capacità, credo che sia proprio un evento da salutare con grande favore.